Roberto, che grande emozione Giulio in maglia gialla? Sicuramente una fortissima emozione, anche perché penso che nessuno se lo aspettava, insomma. Quindi ieri è stata una giornata veramente straordinaria. Che hai provato quando è apparsa la grafica con scritto nuova maglia gialla Giulio Ciccone? E' indescrivibile quello che abbiamo provato. Sicuramente un'emozione fortissima. Dai, staremo a vedere. Qui c'è tutto, c'è tutta la storia sportiva di Giulio. La maglia azzurra di quest'anno, la maglia della Bardiani con cui ha vinto la prima tappa a Sestola, tanti riconoscimenti. Ma ieri quando vi siete sentiti con Giulio cosa ti ha detto? Ci siamo sentiti ieri sera, eravamo proprio qui, io e mia moglie a prendere un caffè con tanti amici. Niente, era lui che tranquillizzava noi, in un certo senso. Vabbè, Giulio è così, è forte anche di carattere. Sei più emozionato tu, un po' come ieri Giulio sul podio? E' emozionato sì, perché tutti, soprattutto io, pensavamo che Giulio andasse al tour più che altro per fare esperienza. E invece lui ieri ha fatto il colpaccio. Non è cosa da poco. Grazie. 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 Grazie.